Sardine in piazza a Vicenza il 7 dicembre i commercianti chiedono di cambiare giorno polemica sui social ritratto di donne arrivano gli ultimi capolavori basilica blindatissima per la sicurezza delle opere pietre di inciampo e polemica politica schio confronto sulla memoria tra maggioranza e opposizione gli amici di rete venete in corso fogazzano segnalati i tombini ostruiti quando piove è emergenza inaugurato a grisignano il nuovo depuratore dell'acqua servirà ai cittadini di una decina di comuni cultura la sesta commissione regionale si riunisce nel teatro comunale obiettivo essere vicino al territorio tg vicenza buonasera a tutti voi telespedatori e ben ritrovati con la nostra informazione dunque le sardine arrivano anche a Vicenza la protesta è fissata per il 7 di dicembre il primo weekend di shopping natalizio e così i commercianti insorgono Natale con le sardine non è il titolo dell'ultimo cine panettone ma i colpi di scena sono da film c'è una data di uscita il 7 dicembre 2019 il primo weekend di shopping per le feste di fine anno le sardine nuotano nei mari di internet e lanciano la sfida con un manifesto online cari populisti per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero perché eravamo stupiti storditi inorriditi da quanto in basso poteste arrivare adesso ci avete risvegliato e siete gli unici a dover aver paura benvenuti in mare aperto il mare aperto però è il centro storico di Vicenza scelto per scatenare la protesta del 7 dicembre alle 7 di sera proprio in concomitanza col famoso weekend dello shopping natalizio abbiamo immaginato per sabato 7 in particolare l'inaugurazione della pista di pattinaggio dei mercatini natale ci saranno le luminarie ci saranno anche le sardine le sardine a quanto pare ci saranno è vero che la manifestazione inizia alle 19 però è altrettanto vero e tutti lo sappiamo che il centro viene blindato tranquillamente dal primo pomeriggio quindi per noi significa un ostacolo enorme al nostro sacrosanto diritto di lavoro la libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella degli altri però direi che appunto proprio con questa manifestazione qui viene lesa la nostra libertà e il nostro diritto al lavoro così i commercianti hanno immediatamente raccolto un centinaio di firme per chiedere alle sardine di cambiare tempi e modi della loro protesta contro la minoranza di governo quel weekend lasciateci stare lasciate lavorare invece la manifestazione resta fissata per il 7 dicembre con questo post però le sardine annunciano che sposteranno il flash mob da piazza dei signori a piazza matteotti intanto proprio su internet dove nuotano le sardine si è scatenata l'onda alta della protesta contro i commercianti che hanno chiesto ai manifestanti di non invadere il centro nel weekend dello shopping abbiamo addirittura avuto un post dove si diceva speriamo che tutti i negozi chiudano questi signori si rendono conto che cosa succederebbe alla propria città se noi tutti chiudessimo tra tante polemiche c'è bisogno di parole di pace così concludiamo con l'assessore alle attività produttive che si rivolge alle sardine con questo messaggio pensate a famiglie bambini che quel giorno vogliono venire in centro storico solo ed esclusivamente per respirare l'atmosfera natalizia e non trovarsi di fronte a una manifestazione in natura politica quindi individuate certamente un'altra un'altra data fatelo per la città non perché ve lo chiede dell'amministrazione ritratto di donna vicenza arrivano gli ultimi capolavori e la basilica è blindatissima per la sicurezza delle opere la basilica dei tesori dei grandi capolavori prende forma ritratto di donna la mostra che dal 6 dicembre al 13 aprile dell'anno prossimo diventerà il grande polo culturale di vicenza stamattina sono arrivate le ultime opere tra cui la giuditta seconda di gustav klimt del 1909 proveniente dalla galleria capesaro di venezia i dipinti sono stati accompagnati da una scorta armata e sono entrati in una basilica più blindata che mai la basilica e la mostra sono completamente blindate sia quando la basilica è chiusa sia quando la basilica è aperta c'è non solo maggior numero di guardie c'è un sistema di vigilanza privata c'è soprattutto un sistema di allarme che controlla con dei sensori tutti i quadri e in particolar modo ovviamente con maggior attenzione quelli particolarmente importanti particolarmente così assicurati per cui appena vengono toccati scattono i sensori c'è un sistema di protezione anche dall'alto qualora mai ci fosse un tentativo dall'alto e quindi devo dire c'è un sistema di allarme soprattutto che ha avuto subito il via libera da parte del ministero francese in sede di sopralluogo quindi ci sentiamo insomma sicuri del valore che abbiamo dentro e che dobbiamo proteggere insomma una mostra a prova di arsegno lupen ma non diciamolo troppo forte potrebbe prenderla come una sfida parliamo adesso di lotta allo spaccio da oggi anche la polizia locale di vicenza si potrà dotare di una unità cinofila propria il tutto tempi tecnici naturalmente permettendo potrebbe partire da febbraio marzo del prossimo anno sentiamo prima c'era baddi con il suo fiuto infallibile che di pianta in pianta di siepe in siepe si attacciava alla ricerca di sostanza stupefacente nascosta in campo marzo questo era prima prima dell'accelerata decisa dall'amministrazione comunale di vicenza che dopo essersi avvalsa di baddi in dotazione della polizia comunale di costa bissara ha deciso di dotarsi di una sua propria unità cinofila finalmente per la prima volta nella città di vicenza la polizia locale potrà contare sul nucleo cinofilo il via definitivo in consiglio comunale con il voto favorevole che ha consentito la modifica del regolamento di polizia municipale ed ora si passa alla parte operativa procederemo a breve con l'acquisto del cane abbiamo già installato stiamo installando la struttura in comando faremo una selezione degli agenti che vorranno intraprendere questo percorso e in base alla selezione decideremo tempi tecnici il personale da formare ma già qualcuno si sarebbe fatto avanti il cane è già stato individuato anche se il nome al momento è top secret il finanziamento dello stato è delegato al progetto scuole sicure ed infatti l'unità cinofila sarà utilizzata anche presso gli istituti scolastici in attività di repressione e prevenzione ha acceso il caminetto utilizzando una bottiglia di alcol un 61enne di calvene è stato colpito da un ritorno di fiamma ed è grave 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 incidente domestico a calvene 61enne mentre accende il cammino utilizzando l'alcol ha un ritorno di fiamma pochi secondi la lingua di fuoco raggiunge il volto il collo e anche una parte del torace dell'uomo che rimane gravemente ustionato sul posto arrivano immediatamente gli operatori del suo m118 il 61enne viene prima trasportato per le prime cure all'ospedale di sant'orso da cui poi trasferito al centro grandi ustionati di verona gravi al momento le sue condizioni pietre d'inciampo è polemica politica schio confronto acceso sulla memoria tra maggioranza e opposizione pietre d'inciampo a schio per ricordare gli scledensi deportati da nazisti e fascisti ed è polemica la richiesta arriva in consiglio comunale con una mozione del partito democratico ma che subito apre una serrata discussione la maggioranza con la lista noi cittadini mette le mani avanti meglio occuparsi degli scledensi e lasciare le vittime riposare in pace pietre d'inciampo che rischierebbero alla fine si è detto durante la discussione in consiglio di essere strumento di discriminazione ricordando solo qualcuno a discapito di altri vittime che invece devono essere ricordate tutte da qui la controproposta della maggioranza di un'aggiunta per schio ovvero di ricordare anche le vittime dell'ecidio di via barato del 1945 proposta che però non ha accolto il parere favorevole dei proponenti visto che le pietre d'inciampo sono un'iniziativa europea legata alla deportazione alla giornata della memoria e adesso con il prossimo servizio diamo spazio all'ultima segnalazione che c'è arrivata in redazione con un post sul nostro gruppo facebook gli amici di rete veneta gli amici di rete veneta sul nostro gruppo facebook ci scrive michela che posta queste foto e spiega abito e lavoro in corso fogazzaro e da anni queste due caditoie stradali sono pesantemente ostruite tant'è che quando piove poco o tanto non scaricano l'acqua negli ultimi tempi ho iniziato ad avere problemi di defluizione delle acque piovane anche con il tombino situato nel mio cortile per cui faccio una manutenzione costante la nostra telespettatrice ci documenta tutto con questo video che in effetti racconta più di tante parole michela assicura di aver fatto segnalazione già negli anni passati ma ora che la situazione è peggiorata ha rinnovato la richiesta di intervento a chi di competenza però ad oggi non ha ancora visto nessuno e soprattutto non sa in che tempi potrà sperare di ottenere una soluzione immediatamente sotto tra i commenti al suo post michela riceve la risposta del consigliere comunale leonardo de marzo che si prende carico del problema e assicura segnalo subito a chi di competenza vediamo un po e già vediamo un po ringraziamo leonardo de marzo che mostra di seguirci e di avere a cuore le questioni segnalate dai cittadini anche noi direte veneto ovviamente ci siamo subito attivati da quel che ci risulta il bollino blu che si vede dipinto sui tombini sarebbe un segnale che via acqua lascia laddove è già passata nel caso specifico i tecnici avrebbero effettuato la pulizia di questi tombini cinque mesi fa quindi stando così le cose in corso fogazzaro a ostruire i tombini non sarebbe la sporcizia deve invece esserci un problema tecnico o strutturale che va verificato e l'intervento da quel che ci risulta sarebbe già in programma ma aspettiamo una risposta dalla viva voce dell'assessore alle infrastrutture mattia yerardi che siamo pronti a incontrare per sollecitare una soluzione dunque la questione per noi non finisce qui ma continua inaugurato a grisignano il nuovo depuratore dell'acqua servirà i cittadini di una decina di comuni migliori prestazioni nei trattamenti e minore impatto ambientale si potrebbe riassumere così il nuovo volto del depuratore di grisignano di zocco di via kennedy ampliato e modernizzato ne vede aumentata la capacità e rivoluzionato il sistema nell'area consentendo di smettere i più piccoli e obsoleti depuratori dei comuni di quinto vicentino montegalda e camisano un investimento di circa 5 milioni di euro con un contributo regionale di un milione di euro è passato da un bacino da 28 mila abitanti equivalenti cosiddetti siamo passati a 43 ed è pronto per arrivare a 66 ovviamente c'è una sinergia in questo in maniera tale che va a servire un'intera comunità che non è solo il territorio di grisignano ma un territorio molto più vasto quota di 66 mila abitanti equivalenti da raggiungere nel 2033 arrivando così a servire anche i comuni di monte galdella bressanvido e tutto bolzano vicentino un depuratore quasi ecocompatibile se non fosse per una piccola parte di rifiuto da smaltire due le linee di trattamento biologico una di disabbiatura di soleottura un ulteriore sedimentatore secondario la filtrazione finale una nuova sezione di disinfezione finale anche a raggio IV il tutto per rimettere l'acqua pulita nel vicino tesinella si è raggiunto l'ottimo cioè quello di unire sul territorio un impianto efficiente un impianto tecnologicamente molto avanzato la depurazione che è una delle operazioni più importanti dal punto di vista ambientale oggi per la prima volta la seduta di una commissione della regione veneto è stata ospitata in un teatro vicentino è importante per noi che ci occupiamo di fare le leggi che vanno a regolamentare la cultura il fatto di ascoltare ascoltare chi lavora nei teatri e ascoltare i punti di vista perché una volta approvata la legge sulla cultura che è uscita dal consiglio regionale a maggio adesso bisogna metterla in pratica e per metterla in pratica bisogna prima di tutto ascoltare sentire chi lavora sui palcoscenici e vedere di fare una legge che sia veramente utile al sistema teatrale del veneto una legge utile al sistema teatrale del veneto è questo l'obiettivo per cui la sesta commissione consigliare permanente della regione veneto si è riunita oggi per una seduta speciale nel ridotto del teatro comunale di vicenza è stata una decisione io ritengo saggia della commissione di venire a toccare con mano la realtà non solamente legiferare da lontano ma creare cioè decreti attuativi vedendo quali sono le realtà in questo caso di vicenza del veneto per poter poi riflettere questa realtà che poi sono le necessità del territorio i desideri del territorio nel decreto attuativo per me questo è un discorso di saggezza lungimiranza e anche di sapere cosa cosa si fa questa sera in prima serata alle 21 e 15 torna focus in diretta con il nostro direttore luigi bacialli ospiti in studio maurizio conte marco francescon fabio miotti giuseppe pane pietrangelo petenò e luciano sturaro come sempre mandate numerosi i vostri sms per questa sera da vicenza è tutto grazie per l'attenzione a tutti voi una buona serata arrivederci sciva atipica osteria nel verde delle colline di fara vicentino serati a tema con cibi particolari e carni esotiche ogni seconda domenica del mese dalle 10 e 30 mostra manga e robot ben trovati al meteo tempo in miglioramento sul nostro territorio le piogge sono in via di cessazione sarà dunque via via più stabile vediamo il dettaglio di giovedì 28 novembre sul veneto alternanza di nuvole locali rasserenamenti ma in pianura sarà piuttosto grigio a causa di qualche nebbia matutina poi in dissolvimento e di nuova formazione in serata temperature stazionarie minime tra 4 e 9 gradi massime comprese invece tra 10 e 13 gradi circa condizioni di tempo stabile anche a vicenza abbassano del grappa in particolare non sono previste precipitazioni ma il cielo risulterà vedete molto nuvoloso e coperto e non si esclude anche qualche foschia in serata temperature stazionarie dal meteo di rete veneta per ora è tutto arrivederci sabato sera musica su prenotazione costate da un chilo e tagliate seguici su facebook o osteria shiva punto it è è è